Ciao Antonia, io sono il saluto a tutti i tuoi fan che ti servono. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata e venite tutti a Tennis and Friends perché è un benzerismo. Ecco, non mancate, tu sei straordinario, ho visto il casconnessi che è bellissimo, e ho la sorpresa che c'è, la mania del saluto a voi, ciao a tutti. Ciao!